Allo stesso modo di una grande metropoli, anche il sottosuolo di un campo biologico non dorme mai, come tutte le scene underground che si rispettino. Anche questa è fatta di rocce e di polvere, ha un carattere irrequieto ed è molto frequentata. In un solo grammo di terra si possono trovare fino a 50.000 forme di vita differenti, alcune minuscole, altre più grandi, ma veramente tutte, impegnate senza sosta a girare, scavare e decomporre. Mentre al piano di sopra le piante crescono alla luce del sole e si fanno belle, producono frutta e ortaggi diretti alle nostre tavole, sotto di noi la vita brulica in subuglio, assumendo uno dei ruoli più essenziali per il funzionamento del pianeta. Storie di straordinaria biologicità è un podcast di Made in Nature, dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come, spesso, sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Non tutti gli underground sono identici. La struttura del terreno è determinante per la crescita delle piante perché convoglia acqua, aria e sostanze nutritive e si differenzia in base alla sua composizione. Terreni con una percentuale più alta di argilla, ad esempio, saranno più resistenti ma il loro drenaggio di acqua sarà minore. Al contrario, uno particolarmente sabbioso avrà meno struttura ma drenerà meglio l'acqua. I terreni si distinguono poi anche in base al pH e quindi alle proprietà chimiche che determinano la ricchezza di nutrienti che possono fornire alle piante, mediate dagli organismi che circolano al suo interno. Sono proprio questi esseri, soprattutto batteri e larve, a fungere da collante con le materie inorganiche e a dare vivacità al suolo attraverso sistemi di aggregazione e, per quanto dark, di decomposizione. Sotto i nostri piedi avvengono continui procedimenti che contribuiscono alla salute dell'ambiente. Si parte dalla regolazione della temperatura, essenziale per dare il via alle reazioni chimiche e alle interazioni biologiche, come la germinazione dei semi o la velocità con cui piante e animali si decompongono nel terreno. Questi passaggi permettono l'immagazzinamento di carbonio, azoto e fosforo, che, altrimenti, verrebbero rilasciati nell'atmosfera, creando un aumento dell'inquinamento, mentre nel suolo diventano preziosi nutrienti. Se tutto questo non bastasse, il suolo è anche fondamentale per la filtrazione dell'acqua. Come una spugna, il terreno assorbe le piogge e le irrigazioni, distribuendole attraverso canali differenti. Da una parte le convoglia le piante, dall'altra le spinge verso le falde acquifere sotterranee, eliminando le sostanze nocive presenti nell'ambiente e garantendo un rifocillamento dei bacini idrici. Tutti questi processi avvengono, tuttavia, solo nei terreni in salute, un aspetto non più scontato. Un terzo della superficie terrestre, dice l'ONU, si ritrova in condizioni di forte degrado. Questo significa una perdita di qualità fisiche, chimiche o biologiche, tali da renderla incapace di trattenere e produrre sostanze nutritive. Terreni che prima brillavano per la propria vita, oggi sono, in maniera quasi del tutto irreversibile, deserti in cui nulla può crescere o vivere. La desertificazione è una delle conseguenze più drammatiche e, probabilmente, più visibili dell'azione dell'essere umano e del cambiamento climatico. Le principali cause di questo fenomeno sono la deforestazione e lo sviluppo urbano che, con le loro colate di cemento, danno il via a un processo di erosione che implica l'incapacità di trattenere acqua e sostanze nutritive al loro interno. C'è poi l'agricoltura intensiva che, forzando la produzione, mette in condizioni di stress il terreno e lo impoverisce, drenando il suolo da nutrienti specifici e consentendo a parassiti, agenti patogeni e malattie di prosperare. La chimica, utilizzata un tempo per contrastare questi problemi, pur eliminando le malattie delle piante, agisce negativamente sulla biodiversità vitale del terreno. Questo può comportare minori produzioni agricole, sterilità dei suoli, diminuzione della resilienza naturale del terreno e una minore disponibilità di acqua. Al contrario, un terreno fertile e inerbito è uno straordinario fissatore di anidride carbonica. Secondo una ricerca condotta dall'ONU tra il 2015 e il 2019, un'area mondiale grande circa il doppio della Groellandia è passata dall'essere sana e produttiva all'essere arida e degradata. Ciò equivale a circa 100 milioni di ettari di terra all'anno e circa 1,5 miliardi di ettari di terreni produttivi perduti, con un impatto già negativo sulla vita di 1,3 miliardi di persone. Non tutto è irrimediabile. L'agricoltura biologica è una risorsa nella lotta all'erosione ed è fra gli strumenti più efficaci per produrre cibo, senza impoverire il terreno. Grazie al rispetto dei ritmi naturali, l'agricoltura biologica apporta meno stress al terreno e, anzi, cambiando ciò che coltiva secondo la stagione, permette un riciclo costante di nutrienti. Secondo i FOAM, i terreni gestiti biologicamente hanno in media 16 cm in più di terriccio, livelli più elevati di materia organica del suolo e una maggiore capacità di sequestrare e immagazzinare carbonio e azoto. Non utilizzando prodotti chimici di sintesi, ma solo materia organica, l'agricoltura biologica instaura un circolo virtuoso nel terreno, mantenendolo vitale e, di conseguenza, più abile a rispondere agli eventi estremi, con una conseguente riduzione del 30% dei picchi di inondazione, grazie a una maggiore porosità e capacità di assorbire l'acqua. Che il tesoro sia nel sottosuolo non è una frase da romanzo d'avventura, soprattutto pensando che solo il 7,5% della superficie terrestre è adatta alla coltivazione. È davvero così, perché il suolo è il cerchio perfetto in cui inizio e fine si ricongiungono. È quel ciclo che, tramite la combinazione fra materie organiche e inorganiche al suo interno, determina la diversità dei terreni e, quindi, di ciò che ci crescerà. permette la formazione di biodiversità e alimenta la prosperità di ogni ecosistema, il nostro e quello di tutti. Fra questi cumuli di vita e di terra nasce una delle love story più antiche e produttive del biologico, la storia del sovescio, la pratica naturale che aiuta i suoli a prepararsi e a mantenersi vivi. Avete ascoltato Storie di straordinaria biologicità, un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come, spesso, sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Storie di straordinaria biologicità è stato scritto da Francesco Pattacini con la supervisione editoriale di Alessandra Ravaioli, la direzione creativa di Lorenzo Pasquinelli, la voce di Serena Sannino, le illustrazioni di Susanna Galfré e le animazioni di Alessio Crispino. Grazie a tutti.